Bella raga, qui Double. Oggi siamo qui con un nuovo speedart sulla community di Rexo e sono qui per ringraziarvi dei primi 200 iscritti e soprattutto per informarvi di alcune novità come ad esempio una serie che a breve faremo dedicata solo ai tutorial su Photoshop e Cinema 4D. Perché so che vi stiamo annoiando con solamente speedart e inoltre credo che per i primi 250 iscritti riusciamo a rilasciare il nostro GFX. Qui è i Double, bella raga. I DON'T BUENT ME DOOR I DON'T BUENT ME DA Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.